Amici di Toscana Unverod, oggi siamo a Chiesina Uzzanese, in provincia di Pistoia, in via San Giuseppe 35, e qui vi presentiamo il Salone Unisex Magic Care, dove Sauras Badoni e il suo staff riescono sempre a valorizzare i vostri capelli, con prodotti e competenze veramente eccellenti. Inoltre oggi ci presentano un programma nel programma, per dimostrarci insomma come si può valorizzare la bellezza femminile e maschile, quindi andiamo a vederli all'opera. Grazie a tutti! Benvenuti a Fashion Beauty, un programma che si occupa di bellezza, ma non solo di bellezza, si occupa di Total Look. Abbiamo con noi Silvia. Cosa possiamo fare Silvia per soddisfare il tuo desiderio di bellezza? Buonasera, io sono Silvia appunto e sto frequentando l'ultimo anno di liceo e tutti i miei amici e miei parenti mi dicono che sono trasandata, non mi curo e devo cambiare completamente il look, a partire dal vestirsi, al truccarsi, i capelli, tutto insomma. E quindi mi sono rivolta a voi sotto consiglio appunto loro per cambiarmi socialmente visto che siete ultimi esperti e questo. Grazie, non sentirti brutta perché non sei assolutamente brutta, sei capitata nel posto giusto. Claudia si occuperà del tuo colore, Francesca nello styling e Claude del Total Look. Grazie a tutti, grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.